Cari amici, buona serata a tutti e con grande piacere che passo qualche minuto con voi. Vi ringrazio ancora per chi ascolta le mie musiche e le canzoni che canto. Grazie, grazie mille. Questa sera farò una musica, questa io la suonicchio diciamo, non sono bravissimo, però mi è sempre piaciuta e me la faccio ascoltare. Però non so il titolo, questa è una musica che suonava il grande Klaus Wunderlich, il grande musicista, lui suona l'organo Hammond. E io ho un po' elaborata sinceramente questa musica. Una parte è autentica, un'altra parte completamente è mia. Buon ascolto. Buon ascolto. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.